Passerei la parola all'ingegnere Mariano Carraro, presidente dell'Ordine dell'ingegnere di Venezia. No, mi stavo chiedendo se è opportuno di un parco di chiedi, ho seduto, forse a me di chiedi. Ringrazio Pasqualino Bostetto, altro presidente della Federazione regionale degli ordini, che ha ereditato questo convegno che era partito nell'organizzazione e nel gruppo di lavoro del quale anch'io ho fatto parte in alcune occasioni, sempre in ambito federazione regionale degli ordini, qualche anno fa. Chiaramente il tema è sicuramente di grande rilievo, di grande interesse ed è testimoniato dalla presenza anche delle autorità comunali, sindaco e regionale. e anche dai relatori e da tutti voi che oggi avete voluto partecipare. Come presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia, quindi vi do il benvenuto e vi auguro di trovare risposte, qualche risposta ai temi che interessano Porto Marghera che è un'area di grande rilievo per la città di Venezia, per il Veneto, per il nord-est e probabilmente anche per il nord Italia. Porto Marghera è la sua area industriale che ha festeggiato un paio di anni fa il centenario della nascita, che è sorta e nata nel 1917 e ha determinato una serie di trasformazioni territoriali, sociali nel nostro territorio in positivo e anche purtroppo in negativo. chi lavora in quest'area sa quali problemi di inquinamento ci sono stati, si sono determinati e quali difficoltà si riscontrano per poter lavorare tutt'oggi. Però Porto Marghera e Marghera costituisce senz'altro oggi una grande opportunità per la città di Venezia e per il Veneto stesso e quindi sono assolutamente positivi tutti questi incontri, seminari che si fanno per individuare delle soluzioni che possano avere effetti positivi per i nostri territori. Una quindicina di giorni fa in ambito collegio degli ingegneri di Venezia, nell'ambito di alcuni premi per tesi di laurea che sono stati dati appunto dai collegi in collaborazione con l'Ordine, abbiamo dato due premi e una menzione speciale, uno dei temi era proprio una tesi di laurea che riguarda il progetto per un terminal marittimo a Porto Marghera. L'attore era il professor Michelangelo Salino dell'Università di Padova e il laureato, laureando ora laureato, è l'ingegner Dario Fantinato. Qui dentro sono contenuti una serie di analisi che fotografano la situazione attuale, è una delle molte analisi e attivamente le tesi di laurea bisogna anche un po' sognare, sono stati portati delle ipotesi progettuali sicuramente di interesse e che sono quelle che sono in campo in questi anni. Lo cito perché effettivamente è la testimonianza dell'interesse che si suscita a livello anche universitario per il tema di Porto Marghera. Chiudo qui e passo la parola a Gianpietro Napoli. Grazie.